Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo ma come potete vedere sono nelle vesti molto particolari di un personaggio stupendo che è quello di Romeo Montecchi. Vecino a me c'è la mia Giulietta, Katia e il grandissimo attore istrione Mario Monopoli. Abbiamo appena terminato lo spettacolo, è andato molto bene, siamo molto contenti, ma adesso siamo ancora più felici di dirvi due cose. Il teatro è una cosa stupenda, il teatro è per tutti, tutti devono avere la possibilità e il diritto di andare a teatro, ma non solo, anche di potersi muovere con i mezzi pubblici, nelle strutture, nei musei, deve essere accessibile a tutti. Quindi ragazzi siete d'accordo con me? Sì, assolutamente. Accessibile è meglio. Quindi per favore ascoltate Romeo e Giulietta, siamo vivi e vegeti, ve lo ripetiamo che accessibile è meglio per Dismappa.